Cari famiglie, per me è una gioia essere qui con voi, dopo eventi sconvolgenti che negli ultimi tempi hanno segnato le nostre vie, prima la pandemia e adesso la guerra in Europa, che si aggiunge ad altre guerre che affliggono l'umanità umana. Grazie a tutti i collaboratori del Di Castello per i Laici, della Famiglia della Vita e della Diocese di Roma, che con la loro dedizione hanno reso possibile questo incontro. Desidero poi ringraziare le famiglie presenti, venute da tante parti del mondo, in particolare quelli che ci hanno regalato la loro testimonianza, grazie di cuore. Non è facile parlare davanti a un pubblico così vasto della propria vita, delle difficoltà o dei doni meravigliosi, ma intimi e personali che avete ricevuto dal Signore. Le vostre testimonianze hanno fatto da amplificatori. Avete dato voce all'esperienza di tante famiglie nel mondo che, come voi, vivono le medesime gioie, le medesime inquietudine, le medesime sofferenze e speranze. Per questo ora mi rivolgo sia a voi qui presenti, sia agli esposi e alle famiglie che ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi trovate, nella vostra concreta condizione di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto proprio questo, partire dalla vostra situazione reale e da lì provare a camminare insieme. Insieme come esposi, insieme nella vostra famiglia, insieme ad altre famiglie, insieme con la Chiesa. Penso alla parabola del buon samaritano che incontra per strada un uomo ferito. Gli si fa vicino, gli si fa vicino. Si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Vorrei che proprio questo fosse per voi la Chiesa. Un buon samaritano che si fa vicino, vicino a voi, e vi aiuta a proseguire il vostro cammino e a fare un passo in più, anche se piccolo. E non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio. Vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Provo a indicare questi passi in più da fare insieme, riprendendo le testimonianze che abbiamo ascoltato. Un passo in più verso il matrimonio. Ringrazio voi, Luigi e Serena, per aver raccontato con grande onestà la vostra esperienza con le sue difficoltà e le sue aspirazioni. Penso che per tutti è doloroso ciò che avete raccontato. Non abbiamo trovato una comunità che ci sostenesse a braccia aperte per quel che siamo. È duro questo, eh? Questo deve farci riflettere. Dobbiamo convertirci e camminare come Chiesa accogliente, perché le nostre diocesi, le nostre parrocchie diventino sempre più comunità che sostengono tutti a braccia aperte. Ce n'è tanto bisogno in questa cultura dell'indifferenza. E voi, providenzialmente, avete trovato sostegno in altre famiglie che, infatti, sono piccole e chiese. Mi è molto consolato quando avete spiegato il motivo che vi ha spinto a far battessare i vostri figli. Avete detto una frase molto bella. Nonostante gli sforzi umani più nobili, noi non ci bastiamo. È vero, possiamo avere i sogni più belli e gli ideali più alti, ma alla fine scopriamo anche i nostri limiti. È saggessa conoscere i propri limiti. Questi limiti che non superiamo da soli, ma prendoci al Padre, al Suo amore, alla Sua grazia. Questo è il significato dei sacramenti del battessimo e del matrimonio. Sono l'aiuto concreto che Dio ci dona per non lasciarci soli, perché noi non ci bastiamo. Quella frase ha fatto tanto bene sentirla. Noi non ci bastiamo. Possiamo dire che quando un uomo e una donna si innamorano, Dio offre loro un regalo, il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza dell'amore divino, forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. Il matrimonio non è una formalità da adempire. Non ci si sposa per essere cattolici con l'etichetta, per obbedire a una regola o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa. No, ci si sposa perché si vuole fondare un matrimonio sull'amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi avviate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio dunque. La vita familiare non è una missione impossibile. Con la grazia del sacramento, Dio la rende un viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non è un bel ideale irraggiuncibile nella realtà. Dio garantisce la sua presenza nel matrimonio e nella famiglia, non solo nel giorno delle nozze, ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro cammino. Secondo, un passo in più per abbracciare la croce. Ringrazio voi, Roberto e Maria Anselma, perché ci avete raccontato la storia commovente della vostra famiglia, in particolare di Chiara. Ci avete parlato della croce, che fa parte della vita di ogni persona e di ogni famiglia. E avete testimoniato che la dura croce della malattia e della morte di Chiara non ha distrutto la famiglia e non ha eliminato la serenità e la pace dai vostri cuori. Lo si vede anche nei vostri sguardi. Non siete persone abattute, disperate o arrabbiate con la vita. Anzi, si percepiscono in voi una grande serenità e una grande fede. Avete detto, la serenità di Chiara ci ha aperto una finestra sull'eternità. Vedete come lei ha vissuto la prova della malattia, vi ha aiutato ad alzare lo sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma ad aprirvi a qualcosa di più grande, cioè i disegni misteriosi di Dio, l'eternità e il cielo. Vi ringrazio per questa testimonianza di fede. Avete citato anche quella frase che Chiara diceva, Dio mette la verità in ciascuno di noi e non è possibile fraintenderla. Nel cuore di Chiara Dio ha posto la verità di una vita santa e perciò lei ha voluto perseverare la vita del suo figlio al costo della sua stessa vita. E come sposa, accanto a suo marito, ha percorso la vita del Vangelo, della famiglia, in modo semplice e spontaneo. Nel cuore di Chiara è entrata anche la verità della croce come dono di sé, una vita donata alla sua famiglia, alla Chiesa, al mondo intero. Sempre abbiamo bisogno di esempi grandi a cui guardare, che Chiara sia di ispirazione nel nostro cammino di santità e che il Signore sostenga e renda feconda ogni croce che le famiglie si trovano a portare. Un passo in più verso il perdono. Paul e Germain, voi avete avuto il coraggio di raccontarci la crisi che avete vissuto nel vostro matrimonio. Ti ringraziamo di questo. Perché in ogni matrimonio ci sono le crisi. Dobbiamo dircela, dobbiamo svelarcela e andare nella strada di risolverla. Non avete voluto addolcire la realtà con un poco di zucchero, no. Avete chiamato per nome tutte le cause della crisi. La mancanza di sincerità, la infedeltà, l'uso sbagliato dei soldi, gli idoli, del potere della carriera, il rancore crescente e l'indurimento del cuore. Mentre voi parlavate, penso che tutti noi abbiamo rivistuto l'esperienza di dolore provata a fronte a situazioni simili di famiglie divise. Vedere una famiglia che si disgrega è un dramma che non può lasciarsi indifferente. Il sorriso dei congiughe scompare, i figli sono smarriti, la serenità di tutti svanisce. E il più delle volte non si sa cosa fare. Per questo la vostra storia trasmette speranza. Paul ha detto che proprio nel momento più buio della crisi il Signore ha risposto al desiderio più profondo del suo cuore e ha salvato il suo matrimonio. E' proprio così. Il desiderio che c'è nel fondo del cuore di ognuno è che l'amore non finisca, che la storia costruita insieme con la persona amata non si interrompa, che i frutti che essa ha generato non vadano dispersi. Tutti hanno questo desiderio. Nessuno desidera un amore a breve scadenza o a tempo determinato e per questo si soffre molto quando le mancanze, le negligenze e i peccati umani fanno naufragare un matrimonio. Ma anche in mezzo alla tempesta Dio vede quello che c'è nel cuore. E provvidenzialmente voi avete incontrato un gruppo di laici che si dedica proprio alle famiglie. Lì è iniziato un cammino di riavvicinamento e di risanamento della vostra relazione. Avete ripreso a parlarvi, ad aprirvi con sincerità, a riconoscere le colpe e a pregare insieme ad altre coppie. E tutto ciò ha portato alla riconciliazione e al perdono. Il perdono, fratelli e sorelle, il perdono risana ogni ferita. Il perdono è un dono che sgorga da la grazia con cui Cristo riempie la coppia e la famiglia intera quando lo si lascia agire, quando ci si rivolge a Lui. È molto bello che abbiate celebrato la vostra festa del perdono con i vostri figli, rinnovando le promesse matrimoniali nella celebrazione eucaristica. Mi ha fatto pensare alla festa che il Padre organizza per il figlio prodigo nella parabola di Gesù. Solo che questa volta quelli che si erano smarriti erano genitori, non il figlio. I genitori prodici, diciamo così. Ma anche questo è bello e può essere una grande testimonianza per i figli. I figli, infatti, uscendo dall'infanzia, si rendono conto che i genitori non dei supereroi, non sono onnipotenti e soprattutto non sono perfetti. I vostri figli hanno visto in voi qualcosa di molto più importante. Hanno visto l'umiltà per chiedersi perdono e la forza che avete ricevuto dal Signore per risollevarvi dalla caduta. Di questo loro hanno veramente bisogno. Anche se, infatti, nella vita sbaglieranno, scopriranno di non essere perfetti, ma si ricorderanno che il Signore ci rialza, che tutti siamo peccatori perdonati, che dobbiamo chiedere perdono agli altri e dobbiamo anche perdonare noi stessi. Questa lezione che hanno ricevuto da voi rimarrà nel loro cuore per sempre. E anche a noi ha fatto bene ascoltarvi. Grazie di questa testimonianza di perdono. Grazie tante. Un passo in più verso l'accoglienza. Ringrazio voi, Irina e Sofia, per la vostra testimonianza. Avete dato voce a tante persone la cui vita è stata sconvolta dalla guerra in Ucraina. Vediamo in voi i volti e le storie di tanti uomini e donne che hanno dovuto fuggire dalla loro terra. Vi ringraziamo perché non avete perso fiducia nella provvidenza e avete visto come Dio opera in vostro favore anche attraverso persone concrete che vi ha fatto incontrare famiglie ospedali, medici che vi hanno aiutato e tanti uomini dal cuore buono. La guerra vi ha messe di fronte al cinismo e alla brutalità umana. Ma avete incontrato anche persone di grande umanità. Il peggio è il meglio dell'uomo. il peggio e il meglio dell'uomo. È importante per tutti non rimanere fissati sul peggio ma valorizzare il meglio e il tanto bene di cui è capace ogni essere umano e da lì ripartire. ringrazio ringrazio anche voi Pietro ed Erika per aver raccontato la vostra storia e per la generosità con cui avete accolto Irina e Sofia nella vostra già numerosa famiglia. Ci avete confidato che l'avete fatto per gratitudine a Dio e con un spirito di fede che è una chiamata del Signore. Erika ha detto che l'accoglienza è stata una benedizione del cielo. In effetti l'accoglienza è proprio un carisma delle famiglie e soprattutto di quelle numerose. Si pensa che in una casa dove si è già in tanti sia più difficile accogliere altri invece nella realtà non è così perché le famiglie con molti figli sono allenate a fare spazio agli altri sempre trovano un spazio per gli altri. E questa in fondo è la dinamica propria della famiglia. In famiglia si vive una dinamica di accoglienza perché anzitutto i coniughi si sono accolti l'un l'altro come si sono detti a vicenda il giorno delle nozze io accolgo te. E poi mettendo al mondo i figli hanno accolto la vita di nuove creatura e mentre nei contesti anonimi chi è più debole viene spesso ricettato nelle famiglie invece è naturale accoglierlo un figlio con disabilità una persona anziana bisognosa di cura un parente in difficoltà che non ha nessuno e questo dà speranza le famiglie sono luoghi di accoglienza e guai si venissero a mancare. guai una società diventerebbe fredda e invivibile senza famiglie accoglienti sono un po' il calore della società queste famiglie accoglienti e generose un passo in più verso la fratellanza grazie a te per averci raccontato la tua storia è bello e consolante che quello che avete costruito insieme tu e Luca rimane vivo la vostra la vostra la vostra storia è nata e si è basata sulla condivisione di ideali molto alti che tu hai descritto così abbiamo basato la nostra famiglia sull'amore autentico con rispetto solidarietà e dialogo tra le nostre culture e niente di tutto questo è andato perso nemmeno dopo la tragica morte di Luca non solo infatti l'esempio e l'eredità spirituale di Luca rimangono vive e parlano alle coscienze di molti ma anche l'organizzazione che Zachia ha fondato in un certo senso porta avanti la sua missione anzi possiamo dire che la missione diplomatica di Luca è diventato ora una missione di pace di tutta la famiglia nella vostra storia si vede bene come ciò che è umano e ciò che è religioso possono interciarsi e dare bellissimi frutti in Zachia e Luca troviamo la bellezza dell'amore umano la passione della vita l'altruismo e anche la fedeltà al proprio credo e alla propria tradizione religiosa fonte di ispirazione e forze interiori nella vostra famiglia si esprime l'ideale della fratellanza ora oltre che essere un marito e moglie voi avete vissuto da fratelli nell'umanità da fratelli nelle diverse esperienze religiose da fratelli nell'impegno sociale anche questa è una scuola che si impara in famiglia vivendo assieme a chi è diverso da me in famiglia si impara a essere fratelli e sorelle si impara a superare divisioni pregiudizi chiusura e a costruire insieme qualcosa di grande e di bello partendo da ciò che ci accomuna esempi vissuti da fratellanza come quello di Luca e Zacchia ci danno speranza e ci fanno guardare con più fiducia al nostro mondo lacerato da divisioni e nemicizi grazie per questo esempio di fratellanza e non vorrei finire questo ricordo di Luca e te senza menzionare tua mamma tua mamma che è qui e ti ha accompagnato sempre nel tuo percorso questo è il bene che le suocere fanno in una famiglia le brave suocere le brave mamme ringrazio lei ringrazio lei di essere venuta con te oggi grazie cari amici ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo una testimonianza da dare noi battessati in particolare siamo chiamati ad essere un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù e dona al suo popolo per questo vi propongo di farvi questa domanda quale è la parola che il Signore vuol dire con la nostra vita alle persone che incontriamo quale passo in più chiede oggi alla nostra famiglia alla mia alla mia famiglia ognuno deve dire questo mettetevi in ascolto lasciatevi trasformare da lui perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo cassa per chi ha bisogno di essere accolto per chi ha bisogno di incontrare Cristo e di sentirsi amati dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il cielo come dicevano i Beate Maria e Luci Beltrame quattro occhi ai loro figli affrontando le fatiche e le gioie della vita guardando sempre dal tetto in su vi ringrazio di essere venuti qui vi ringrazio dell'impegno nel portare avanti le vostre famiglie avanti con coraggio con gioia e per favore non dimenticatevi di pregare per me grazie 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 grazie